Silvio Berlusconi ha ricevuto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano la riabilitazione, una decisione che avrebbe come effetto quello di cancellare gli effetti della condanna che sarebbe stata subita nell'ambito del processo su diritti Medisat nel 2013, sentenza che avrebbe fatto scattare la vera e propria incandidabilità imposta dalla cosiddetta legge Severino. Se dovesse quindi andare a Reurne Berlusconi avrebbe il diritto di presentarsi sia nella Camera dei Deputati che anche al Senato della Repubblica o meglio, o alla Camera o al Senato. La notizia sarebbe stata già dinamata da parte di un coediano italiano online. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione del presente video, iscrivetevi se volete, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate a proposito di questa decisione stabilita dalla Prat Tribunale di Milano per quanto riguarda la persona di Silvio Berlusconi e della riabilitazione. Grazie, un cordiale saluto e al prossimo video da Narodoro Italiano di Youtube.